Vieni, 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 perché io ieri sono venuto a cercarti al negozio, mi hanno detto a lei per un'intervista. No, ma ieri è cominciato il Passioni Festival, del quale noi siamo gli sponsor, e allora... Noi poi come Sabò, noi... Io no, io non ho queste passioni, io non ho queste passioni, siamo sponsor. Ieri c'era Yuri Keki, che ha fatto il pienone, perché... Yuri Keki è l'atleta che ha vinto, ha vinto medaglia d'oro. Quello, no, te dovresti dire quello... Comunque Luciano è più basso di te. No, non ci credo, ti giuro. Era ginocchio. Era ginocchio. Era ginocchio. Era ginocchio. Non esageriamo, io sono uno dei nani più alti d'Italia. Però con gli anelli come te li capi, oltre a quelli che regali alle tue amanti. Il signore degli anelli. No, anche lui, per quanti mi ha regalati alle donne. Simpaticone, la continuiamo. E allora questa intervista, che poi è stata una cosa... Io l'ho sentita. Guarda lui, parla... È un pochino lunga, devo dirti la verità, perché Mauro parla, a volte uno dice, ma quando taglia, fatelo smettere, però... Ma lui è su Radio Italia Cius. Sì, lui dà una domanda... Di cosa parla lui? E gli hanno fatto una domanda. Ma lui, siccome può svariare... Gli hanno fatto una domanda... No, due domande, ti posso dire le domande, dice, che cos'è lei che l'ha avvicinato a Passione Festival? Aspetta, gira le spalle per Bernardo Recau. No, secondo te si vede troppo. Hai ragione. Allora, e gli hanno fatto una domanda, dice, che cos'è che l'ha... Quanti televisivo per me? Allora... Senti, io... E lascia... E lascia mi parla. E lascia mi parla. E gli hanno fatto una domanda, Mauro già un pochino intimorito, dice, che mi chiederanno, perché lui, sai... Beh, allora, ha detto, che cos'è che l'ha avvicinato a Passione Festival? Aspetta, è la domanda. Ma perché dopo è troppo lungo delle risposte. Un lo sento mica. Certo, sì. Ma che... Marco Meacci. Marco Meacci. E Meacci, quel comunista? Sì. L'ultimo comunista è rimasto a Rizzo. Eccoci, bene, se senti in osamentale, non volevo parlare ora io di politica. Ecco così. Guarda, sono talmente pochi che vanno tenuti le contra. Lo conosco il Meacci, lo stimolo, apprezzo, lo stimolo, lo ammiro, lo stiro, lo ammiro. Però, quindi, tutta questa faccenda che vorrebbe dire? Che vorresti dire? Che questo festival non ti piace. Che con una risposta... Ho dato una domanda, due domande e una risposta, vorresti dire? No, è forte. No, è forte. Ho preso... Ho preso... Ho preso... Due piccioni con una fava. Ho preso... Ho preso... A proposito di fava, che quanto duri a fare questa faccenda? Beh, insomma... Ora, una volta... Saluta, come fa a parlare di festival?